Che cosa vuol dire veramente avere un obiettivo ma soprattutto raggiungerlo? Nel video di oggi lo scopriremo. Amici appassionati di psicologia, bentornati sul mio canale. Torno dopo un sacco di tempo finalmente a fare un nuovo video. E oggi parliamo di che cos'è un obiettivo ma soprattutto che cosa vuol dire raggiungerlo. Perché si sente oggi parlare molto di obiettivi, di fissarsi degli obiettivi, di raggiungere degli obiettivi. Ma questi obiettivi sono spesso definiti in modo poco chiaro, fumoso, poco tangibile, poco calabile a terra. Ed è una cosa non da poco perché le conseguenze di non avere un obiettivo chiaro impattano direttamente sulla nostra motivazione. Gli obiettivi sono il vero motore della nostra motivazione perché ci fanno partire da un punto A a un punto B. E quindi durante il raggiungimento di un obiettivo noi abbiamo la possibilità di alimentare la nostra motivazione e di essere anche più efficienti. più produttivi. E quindi come sentite già da questi termini prendo spunto dalla psicologia delle organizzazioni per parlarvi di obiettivi. Anche se oggi cercherò di parlare di qualcosa di psicologico che può servire a tutti. Perché gli obiettivi trattati nella psicologia delle organizzazioni riguardano soprattutto gli obiettivi lavorativi. E quindi vanno a definire il tuo ruolo come dipendente o come collaboratore. Ma noi oggi parliamo di obiettivi in un senso un po' più ampio. Cioè cosa ci poniamo noi come obiettivi nel nostro quotidiano. E può valere per il lavoro, può valere per lo studio, ma può valere anche per altre ambizioni molto più grandi della nostra vita. E già col termine ambizione possiamo vedere come le ambizioni si distinguono dagli obiettivi. Perché le ambizioni hanno una componente anche di speranza, hanno una componente emotiva. Un po' come i bisogni. E quindi è importante riconoscere la differenza tra i bisogni e gli obiettivi. Perché il bisogno viene soddisfatto quando io mi sento bene, quando io sono felice. Mentre il benessere, la soddisfazione che può emergere dal raggiungimento di un obiettivo, è un qualcosa di più circoscrivibile, di più misurabile, anche di più individuabile nel tempo. E quindi oggi, anche un po' per aiutarvi a chiarire meglio come porvi gli obiettivi e come raggiungerli, utilizzo un metodo che è il metodo chiamato SMART. Un acronimo che sta per ciascuna lettera a un elemento che definisce quello che è un obiettivo chiaro, un obiettivo utile, un obiettivo efficace da potersi porre. E partendo dalla S dell'acronimo SMART, S sta per specifico. Un obiettivo, per essere raggiungibile in modo efficace, deve essere specifico, e cioè deve essere ben chiaro, definito, con dei confini ben precisi. Non deve lasciare spazio a delle ambiguità che potrebbero portarci lungo il percorso a crearci deviazioni, altre strade che poi ci fanno perdere rispetto a quello che è la direzione per raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti. La M sta invece per misurabile. Deve essere possibile misurare i progressi verso il raggiungimento del nostro obiettivo, anche per poter vedere gli step intermedi e poter valutare se le azioni che stiamo mettendo in atto sono proficue, ci stanno portando veramente nella direzione giusta. La A in realtà sta per achievable, ma noi tradurremo con raggiungibile, nel senso che un obiettivo deve poter essere raggiunto. E questo è molto importante perché gli obiettivi poco ambiziosi sono troppo facilmente raggiungibili e quindi non ci danno la giusta motivazione e ci spengono. Ma obiettivi irraggiungibili, obiettivi esagerati, ci creano un senso di frustrazione, di smarrimento e ci abbattono e quindi hanno un effetto negativo sulla nostra motivazione. Quindi nonostante oggi si pensi che l'obiettivo deve essere grande, deve essere difficilmente raggiungibile, io sono d'accordo che si possa sognare in grande, ma all'interno di quel sogno vanno invece individuati degli obiettivi raggiungibili, perché sono quelli che ci tengono poi veramente coinvolti, motivati e ci danno anche un senso di autoefficacia. La R dell'acronimo SMART sta invece per rilevante. È inutile correre dietro a obiettivi che non sono importanti, che non sono rilevanti. Torniamo al discorso della motivazione. Stabilirsi un obiettivo rilevante ci dà ancora più motivazione, ma ci dà anche un senso di responsabilità e abbiamo voglia di raggiungerlo perché sappiamo anche i benefici che porterebbe. Quindi è molto importante anche che l'obiettivo che ci fissiamo abbia un certo grado di rilevanza. Ed infine la lettera T sta per la T di tempo. Deve essere time-based, basato su delle tempistiche ben definite. Questo a volte noi ce lo dimentichiamo quando ci poniamo un obiettivo, ma invece è fondamentale. Un obiettivo deve essere ben inserito all'interno di una linea del tempo dove sappiamo che c'è una scadenza, perché questo ci dà anche un senso di urgenza. Oltre che un senso di importanza, come abbiamo detto prima, ci dà anche un senso di urgenza e quindi ci impone di pianificare bene il tempo per poter raggiungere quell'obiettivo senza dilungarci, senza procrastinare. Io credo che al di là di quello che può essere l'effettivo valore di una teoria o di un acronimo, questo acronimo SMART, ci dà una grossa mano su come possiamo porci gli obiettivi da oggi nella nostra vita, perché porsi male un obiettivo ha veramente degli effetti negativi sul nostro umore, sulla nostra motivazione e anche sulla nostra efficienza quando lavoriamo, quando studiamo e lo notiamo tutti nel quotidiano. Abbiamo toccato prima argomenti come la motivazione, la procrastinazione, l'organizzazione del tempo e sono tutte competenze importanti che ci aiutano non solo nel nostro grado di performance, ma ci aiutano anche a stare meglio con noi stessi, perché ci sentiamo più di valore, più importanti, più capaci, meno abbandonati alle nostre paure, meno abbandonati ai nostri bisogni, ai nostri desideri realizzabili, che poi ci rendono persone critiche, autocritiche. E quindi secondo me è importante sapersi porre bene un obiettivo. Oggi addirittura, accanto all'acronimo SMART, si parla dell'approccio SMARTER agli obiettivi, quindi ancora più SMART degli obiettivi di prima, dove la E e la R stanno per EVALUATED, quindi VALUTATO, e la R per RIESAMINATO, RIVISTO. E questo è interessante, perché noi prima abbiamo parlato che un obiettivo deve essere misurabile, ma la valutazione è qualcosa ancora in più, perché la valutazione comprende anche un feedback. E questo è importante sicuramente quando parliamo dell'ambito scolastico, ma anche e soprattutto dell'ambito accademico, universitario, dove siamo spesso a contatto con la valutazione, ma anche nelle aziende, quando noi facciamo un lavoro, abbiamo anche una valutazione che viene fatta per esempio annualmente nelle organizzazioni che hanno una performance review e hanno una cultura del feedback. Riceviamo delle valutazioni che ci danno anche uno spunto su dove possiamo migliorare, cosa possiamo cambiare, cosa possiamo implementare, o magari che nuovi obiettivi possiamo porci. E quindi avere anche il corretto feedback attraverso una valutazione è un elemento importante per monitorare i nostri obiettivi. Così come lo è il poter riesaminare, rivedere gli obiettivi, perché spesso noi poi ci impuntiamo, abbiamo fissato un obiettivo e deve essere quello. Però se le nostre valutazioni e anche tutti gli altri elementi che abbiamo visto nell'acronimo di prima ci portano a vedere che l'obiettivo non è corretto per noi, oppure nel tempo è cambiato, non è più necessario inseguire quell'obiettivo, allora dobbiamo avere anche la possibilità e il coraggio di riesaminarlo, di rivederlo ed eventualmente di cambiarlo. E così vi ho aggiunto anche le ultime due lettere a questo acronimo SMARTER che ci dà un'idea un po' più chiara di che cosa vuol dire porsi gli obiettivi in modo corretto e come anche guidare verso il loro raggiungimento. Ovviamente attendo di leggere i vostri commenti per sapere se avete degli obiettivi, quali sono, come li state raggiungendo, se avete utilizzato magari alcune di queste riflessioni, di queste tecniche, per pianificare bene i vostri obiettivi, vi chiedo anche di lasciare un mi piace a questo video e di iscrivervi e noi ci vediamo presto con un nuovo contenuto sempre su questo canale.